Sono giorni concitati per migliaia di lavoratori siciliani tra scioperi proteste e la rivendicazione di certezze sul proprio futuro. Buone notizie soltanto per quanto riguarda i 519 collaboratori scolastici ex LSU di Palermo e provincia per i quali il Senato ha approvato la proroga dell'incarico per tutto il 2014 ed il pagamento degli stipendi arretrati per il 2013. Il governo regionale intanto sembra non trovare il bandolo della matassa relative ai precari degli enti pubblici siciliani ai quali non resta che guardare a Palazzo d'Orlean e all'unità di crisi sul precariato che dovrebbe trovare la soluzione. E invece niente di fatto, alla riunione di erisera, contrariamente a quanto promesso da Grosetta, i contenuti del DDL che dovrebbe mettere in moto proroga e stabilizzazioni non sono stati illustrati. Il DDL è non ancora pronto e la presentazione è stata spostata giovedì pomeriggio, suscitando la rabbia dei sindacati. CGL e Cisleville non esitano a puntare il dito contro un testo di legge che non scioglie nodi di fondo, dicono, e non dà alcuna certezza. Già annunciate nuove mobilitazioni. Il 2 dicembre i precari degli enti pubblici siciliani manifesteranno davanti le prefetture dell'isola. Il 13 dicembre è indetto uno sciopero ed un corteo a Palermo. E si aggiunge a benzina sul fuoco con il commissario dello Stato per la regione siciliana che ha impugnato per violazione le proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato relativi a enti strumentali della regione, ovvero CEF, PAS, Enti Parco, Camere di Commercio, le gestioni separate ed i soppressi consorziasi presso l'IRSAP. Intanto continua la protesta dei 164 lavoratori dell'Ansaldo Breda di Carini che stamane hanno manifestato davanti Palazzo d'Orlean. Per loro si prospetta la cassa integrazione perché la società del gruppo Finmeccanica non avrebbe acquisito nuove commesse. In piazza anche 400 operai Fiat esclusi dalla proroga della cassa integrazione che hanno manifestato ancora a Palermo in via Briuccia davanti l'ufficio provinciale del lavoro. Insomma, nonostante le temperature polari, i giorni a venire saranno caldi in Sicilia ed il governo regionale non potrà di certo ignorare le richieste di chi rischia di ritrovarsi senza un lavoro e senza alcuna prospettiva.